presa diretta numero 15 dedicata a un eser Aspire switch 10e un modello che ho già recensito lo scorso agosto al momento del lancio ma che adesso è stato aggiornato con i nuovi processori atom cherry trail e quindi c'è bisogno un po di una ripassata no è sempre un due in uno schermo 10 pollici 1080 per 800 pixel con porte integrate micro hdmi lettore sd per espandere la memoria interna micro usb per la ricarica questo significa che oltre con il suo caricatorino che è questo qua 5 volte potete caricarlo se proprio siete in emergenza con un battery bank e questa è una svolta e poi tastiera dock con la migliore tastiera dei 10 pollici per scrivere secondo me perché l'abbiamo visto nella vecchia recensione qua sotto c'è una placca metallica che la rende davvero stabile non riuscite a piegarla mai i tasti sono abbastanza alti non sono troppo piatti quindi insomma da punto di vista della scrittura questa è la migliore e poi questa cerniera che permette tra l'altro più modalità di di aggancio no perché questo è uno switch e chiaramente voi potete metterlo così rovesciato e poi appoggiarlo in modalità cavalletto insomma farci un po di cose diverse dagli altri cerniera che ha sotto dicevo una grossa parte in gomma che la rende abbastanza stabile quando l'appoggiate su un piano d'appoggio perché non scivola e poi alza parecchio la cerniera e quindi ancora avvantaggio della comodità di scrittura no vedete si inclina parecchio inoltre anche questo va molto indietro e questa è una cosa che altri due in uno non fanno è vero che si ribalta questo sì come tutti gli switch di acer ma ormai abbiamo capito che è così e è proprio una scelta voluta dal produttore l'aggiornamento tecnico comunque ha permesso di inserire su un lato destro una usb 3.0 prima c'era una 2.0 quindi un pass in avanti da questo punto di vista ma soprattutto all'interno ha permesso di dare un qualcosina in più alle prestazioni globali se andiamo a guardare i benchmark non c'è uno stravolgimento lo sappiamo però ha un processo produttivo di 14 nanometri quest'anno ha un tdp appena più basso in breve è più efficiente mettiamola così ma soprattutto ha una grafica integrata con 12 unità di elaborazione la vecchia ne aveva soltanto 4 che adesso riproduce i filmati 4k ma anche streaming ma anche h265 ma anche netflix per farvi capire con un carico sulla cpu bassissimo siamo attorno al 20 per cento 13 per cento insomma dipende dal da quello che state facendo ed è una buonissima cosa perché lo conferma come una macchina adatta per la riproduzione multimediale se volete guardarvi un film anche con l'uscita hdmi come vi ho detto massimo però full hd l'uscita a farlo ma anche streaming e avete un consumo bassissimo un'ora di riproduzione streaming su auroro tv lui ha consumato la batteria del 7.5 per cento l'ora significa arrivare a 13 ore di autonomia con lo schermo al 50 per cento ora questa è una condizione che potete usare a casa perché lo schermo al 50 per cento non è molto luminoso su questa macchina dall'altro non c'è il sensore di luminosità quindi dovete andare voi la regolare però insomma 13 ore sono tante anche se arrivate a 8 va benissimo e voi riuscite comunque a fare un viaggio in treno senza portarvi dietro il caricatore aumentando il il carico di lavoro insomma facendo cose un pochetto più stressanti lui consuma un 12 per cento l'ora nei miei test quando ho fatto i batch o qualche prima quando ho fatto qualche qualche prova e quindi siamo sopra le otto ore nel nostro test di hd blog giusto per darvi un riferimento lui fa 9 ore e 54 minuti che sono una vintina di minuti più del dello stesso modello con il vecchio processore la batteria ne è sempre 30 una 30 vh per il resto non c'è nulla di differente la il chip wireless è diverso cambia la marca ma insomma è sempre una wifi n dual band sui perf fa dei buoni valori c'è bluetooth 4.0 e già a proposito di sistema operativo e poi chiudo qua c'è la versione di windows 10 64 bit non più 32 come l'anno scorso quindi voi potete installare tutto il software che volete ormai sapete che alcuni programmi sono disponibili solo in 64 bit non più a 32 un bel passino avanti questo difetti due principali il primo l'audio è davvero basso anche a 100 per cento io faccio fatica a sentire si può regolare un po l'equalizzazione ma insomma non cambia tantissimo la resa poi l'altro è il caricatore che è un po lento a caricarlo insomma quindi se vi serve a 100 per cento pensateci prima e poi in realtà ecco c'è anche un terzo difetto ovvero il prezzo di vendita o meglio il periodo di commercializzazione è arrivato sul mercato mesi dopo gli altri rivali pari hardware asus hp fondamentalmente che sono stati in vendita a prezzi più bassi lui si trova online a 250 euro circa che è un buon prezzo il prezzo della categoria però gli altri si trovano anche a meno 20 30 40 euro in meno quindi insomma ci sarà bisogno di un po di tempo per allinearlo a questa queste cose io ve lo consiglio appunto se dovete scrivere e gestire cose online blog un weekend fuori se non dovete gravare completamente sull'autonomia del vostro smartphone del vostro tablet lui vi dà una buona flessibilità è una macchina molto versatile che poi comunque a casa fa sempre comodo va bene anche per dei bambini per dei ragazzi con windows 10 queste macchine hanno davvero fatto un salto di qualità vanno bene sono godibili divertenti e appunto da questa generazione anche adatte alla riproduzione multimediale ok questo è quanto su switch 10 e ho scritto altre cose ho fatto dei confronti un pochetto più tecnici dal punto di vista dei benchmark dei risultati con il vecchio modello e con gli altri due in uno trovate tutto online su hdblog.it ho appena pubblicato la recensione qua sotto c'è il link per raggiungerla direttamente insieme al puzzantino per mi piace il puzzantino per iscrivervi al canale e vi ricordo anche come al solito che di presa diretta è disponibile una playlist quindi se mi iscrivete a quella poi vi arrivano le notifiche per non perdere gli altri episodi